Ora vediamo gli insetti partendo dalle pomace. Carpocapsa. È iniziata la deposizione delle uova mediamente a partire dal 25 giugno. L'inizio delle nascite larvali è attorno il 4-6 luglio. Il 10 luglio abbiamo avuto il 6-12% di larve nate. Pandemis. L'inizio volo tra il 9 e il 12 luglio con previsione di inizio deposizione delle uova verso fine settimana. Euglia. Inizia il volo in settimana e verso fine settimana inizierà anche la deposizione. Vediamo maculatura. È da inizio giugno che le condizioni meteo sono molto favorevoli a nuove infezioni, mentre per ciò che riguarda il volo dei conidi infettanti solamente da metà giugno si è visto il primo incremento. In particolare nelle giornate del 14-15 giugno, per poi avere un nuovo incremento più consistente a partire dai primi di luglio, con un volo molto elevato rilevato nei vetrini il 7 e l'8 di luglio. Passo ora la parola al medico delle piante per la difesa dagli insetti e funghi delle pomace. Grazie Cleglia, un saluto a tutti i telespettatori di Agreste. Partiamo subito parlando di insetti delle pomace. Parliamo in realtà soltanto di carpocapsa, poiché per tutte le altre avversità legate agli insetti è un po' prematuro parlarne. Carpocapsa, seconda generazione, una generazione che a dire il vero non pare particolarmente intensa, ma non per questo non deve essere sottovalutata. Va trattata con attenzione vista la pericolosità di questo lepidottero. Ricordiamo la soglia di intervento, sono due adulti per trappola in una o due settimane. Nel caso in cui ci sia la confusione, si adotti il metodo della confusione sessuale, si deve andare a verificare se sono presenti ovature o danni. Nel caso in cui superiamo la soglia andremo ad intervenire a circa 6-7 giorni dal superamento stesso. I prodotti che possiamo utilizzare appartengono alla famiglia dei fosforganici e sono sostanzialmente due, il clorpirifosetile, il fosmet. Hanno una carenza di 30 giorni. A dire il vero la carenza del fosmet è minore, ma quello che occorre per far sì che il prodotto, o il principio attivo per meglio dire, rientri nei limiti fissati dalla legge, bisogna attendere un periodo più lungo e sono appunto i 30-35 giorni. Questi due prodotti possono essere utilizzati singolarmente al massimo 4 volte all'anno. Se si alternano o si utilizzano entrambi, la famiglia dei fosforganici può essere utilizzata per 5 volte al massimo nel corso dell'intera annata. Altri prodotti che possiamo utilizzare sono lo Spinosad e l'Aser o Saces come prodotti commerciali, oppure l'Emamectina che il prodotto commerciale affirma. Entrambi hanno 7 giorni di carenza e possono essere utilizzati al massimo 3 volte per quello che riguarda lo Spinosad e 2 volte per quello che riguarda invece l'Emamectina. Ribadisco ancora di fare attenzione al periodo di carenza, al tempo di carenza, poiché in quest'annata si stanno verificando anche degli anticipi di maturazione, quindi delle raccolte che sono leggermente o sensibilmente in anticipo rispetto ai calendari normali degli altri anni, per cui facciamo attenzione ai prodotti che andremo a impiegare per non incorrere poi in problematiche legate al non rispetto della carenza. Per quello che riguarda il melo vanno bene tutti quelli elencati finora, in più possiamo utilizzare il Tiacloprid e l'Etofenprox. Il Tiacloprid a 14 giorni di carenza può essere impiegato al massimo due volte all'anno. L'Etofenprox ha 7 giorni di carenza e va utilizzato una volta all'anno al massimo. Per quello che riguarda le malattie fungine delle pomacee affrontiamo l'argomento maculatura. Maculatura che ancora per questo periodo va trattata ogni 6-7 giorni oppure anche dopo piogge o bagnature prolungate dovute a rugiade pesanti o nebbie notturne. I prodotti da impiegare sono il Tiran che ha 35 giorni di carenza, quindi attenzione alle varietà su cui andremo ad impiegarlo per non incorrere poi in problemi di non rispetto della carenza. Abbiamo il Captano con 21 giorni di carenza e utilizzabile sole 3 volte nel corso dell'annata e poi abbiamo prodotti a base di Boscalit, prodotto commerciale Cantus con 7 giorni di carenza e impiegabile 3 volte all'anno. In momenti di bassa pressione della malattia oppure di fruttetti particolarmente poco sensibili a questa avversità è possibile utilizzare anche prodotti rameici, prodotti rameici che però vanno verificati in base all'etichetta che riportano per cui vedere se è consentito l'impiego anche nel periodo primaverile estivo e se c'è la registrazione sulla coltura e anche verificare la carenza perché ci sono prodotti che hanno una carenza molto lunga e prodotti con una carenza invece estremamente corta per cui sempre far fede all'etichetta. Altro problema non legato a funghi ma a batteri ed è il colpo di fuoco. Ervigna Milovora purtroppo quest'anno siamo di fronte a una recrudescenza per cui si invitano tutti i frutticoltori, pericoltori e melicoltori a monitorare con molta attenzione i propri impianti e a mettere in atto tutte quelle pratiche agronomiche di difesa che sono necessarie per contenere e debellare questa grossa avversità.